I punti fondamentali sono più o meno questi. In primo luogo, questa nuova vitalità delle destre risponde all'epoca del neoliberismo in crisi che in un qualche modo deve corazzarsi contro le proprie interne contraddizioni. La prima contraddizione fondamentale è che la globalizzazione ha prodotto un mondo non unito ma diviso, cioè coloro i quali sono più danneggiati o comunque sia sono più esposti al rischio di questo paradigma economico ormai ansimante, sono proprio coloro che votano a destra ed è proprio questo risultato della vittoria delle destre che serve al neoliberismo per blindare la propria struttura di fondo, eliminando gli elementi progressivi o comunque sia espansivi che portava con sé e trasformandoli in elementi di ostilità, di blocco e di regresso. Questo è il primo punto. Il secondo punto per quanto riguarda l'Italia è che la destra al governo, e parlo soprattutto di fratelli d'Italia, la destra al governo ha un rapporto specifico con il fascismo che non è tuttavia un rapporto di diretta discendenza. Attraverso la trafila neofascismo-postfascismo, la destra attuale è una destra che è caratterizzata dal afascismo, ma attenzione, afascismo vuol dire che il fascismo è presente nel modo dell'assenza, ovvero è un grande vuoto per loro, un grande vuoto che li priva, certamente dal loro punto di vista, delle responsabilità, cioè dell'obbligo di dichiararsi antifascisti e di aderire anche emotivamente e intellettualmente alla Costituzione antifascista. E questo è uno sgravio che va a loro vantaggio. E tuttavia quel vuoto è anche per loro una paralisi, cioè del fascismo non possono parlare, non vogliono parlare, e così in questo modo si privano della capacità di avere un qualunque sviluppo intellettuale. Quando si definiscono conservatori, essi si dichiarano oggi conservatori, una dichiarazione che nessun fascista avrebbe mai ammesso, certamente, ma normalmente un conservatore è qualcuno che dà un'interpretazione conservativa di qualche cosa, di un'ideologia, ad esempio del liberalismo, ad esempio del popolarismo. Ecco, Costoro invece non riescono a dare un'interpretazione conservatrice di nulla, cioè non hanno una cultura di riferimento rispetto alla quale dare un'interpretazione conservatrice. Quando si dichiarano conservatori si manifesta la loro completa dissociazione rispetto a una qualunque tradizione intellettuale o ideologica reale, cioè si stanno inventando una loro posizione politica che non hanno mai avuto. E' il prezzo che pagano, naturalmente, per staccarsi del tutto dal fascismo, creando un vuoto che non riempiono di nulla. Naturalmente questo è un prezzo, ma è anche un'opportunità, perché in questo modo sono assolutamente liberi di darsi ad ogni comportamento pragmatico, senza la minima difficoltà. Un esempio, la riforma del premierato, il premierato elettivo, è qualcosa di assolutamente devastante, vista dal punto di vista della grammatica, della sintassi del costituzionalismo liberale. Eppure, questo partito è entrato in questa avventura senza la minima esitazione, probabilmente senza calcolare nemmeno l'effetto dirompente che questa riforma avrebbe. Terza e ultima grande tesi di questo libro è, d'accordo, è una risposta del liberalismo alle proprie contraddizioni che passa attraverso coloro che credono di protestare contro il neoliberalismo. D'accordo, è una forma di afascismo che consente il massimo pragmatismo, ma anche testimonia il massimo di distanza da qualunque tradizione storica ideologica reale. In terzo luogo, a che cosa serve la destra oggi? Che cosa fa la destra al governo? Beh, non fa altro che dare, tentare di stabilizzare, diciamo così, tentare di stabilizzare dei flussi, dei trend, dei processi che sono già in atto, che non è stata lei a cominciare naturalmente, che sono iniziati per impulso dei poteri economici e finanziari e che sono stati accompagnati finora da culture politiche mainstream di centro, di centro-sinistra, che adesso sono in difficoltà, e dunque non sta facendo altro che proseguire il lavoro d'altri, tentando di stabilizzarlo e di dare forma istituzionale a queste dinamiche. Voglio dire, l'accentramento del potere politico in capo al Presidente del Consiglio dei Ministri non l'ha inventato Meloni, è fritto di un processo. La disintermediazione, la distruzione di fatto dei poteri, dei corpi intermedi, non l'ha inventato Meloni, è processo in atto da 30 anni. Ecco, la destra si limita a riconoscere questi processi e ad affermare che non vi è scampo, che devono essere anzi assolutamente costituzionalizzati, formalizzati, che sono il nostro destino. Per cui è una destra non antidemocratica e quindi non è fascista, perché tra l'altro si fa troppa fatica a essere fascisti, bisogna elaborare una cultura specifica che questa destra non ha e non vuole avere. Non è una destra antidemocratica, no, è una destra post-democratica che tenta di dare forma e stabilità al processo di evoluzione della democrazia verso la post-democrazia, un processo particolarmente accentuato nel momento generato dal neoliberalismo e particolarmente accentuato nella fase della crisi del neoliberalismo.